Il prezzo del petrolio continua a scendere, eppure il prezzo della benzina continua a salire. Questo per colpa di varie accise messe dal governo nel corso degli anni. Renzi, che a porta a porta aveva promesso nel 2014 che avrebbe ritoccato queste vecchie accise, non ha mai fatto nulla. E parliamo di accise addirittura su vecchie guerre, la guerra in Etiopia, oppure addirittura emergenze, cioè l'alluvione di Firenze, il sismo in Emilia, alcune di queste emergenze già passate. I soldi non sono mai arrivati, ma le accise sono rimaste. E quindi chiediamo al governo di fare qualcosa, perché o si abbassa il prezzo della benzina, si tolgono queste accise, oppure si incentiva il trasporto pubblico locale, che è l'unica vera alternativa all'uso dell'auto privata. Per questo attendiamo una vera risposta da parte del governo, per rispondere a tutte le migliaia di cittadini che pagano le tasse ma non vedono poi i risultati in quanto a servizi, in quanto a prezzo della benzina che continua a rimanere alto. Grazie. 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 Grazie.